Anche Endless ci mette l'arte, non la faccia coperta da bandana e cappello come fanno molti altri suoi colleghi street artist. La bomboletta per dare il suo punto di vista su tanti mondi, in particolare quello della pubblicità e della moda, nonché i lati oscuri della contemporaneità. Questa volta il suo pensiero va alle donne sopravvissute alla violenza maschile. Questa è la sua prima esperienza romana. Lui ha già fatto installazioni a Barcellona, a Londra, in giro un po' per tutto il mondo e con questa installazione, con questa live performance, testimonia la sua volontà a denunciare questo grave problema che riguarda tutto il mondo. La sua opera è stata battuta da Christis insieme a molte altre, tra queste spicco un Andy Warhol e un Emilio Vedova, ma anche una tela di Michelangelo Antonioni, pittore. Tra altri oggetti lussuosi e cimeli più alla portata, tutto a fin di bene. I proventi servono a dare a 30 donne l'occasione di ricominciare in autonomia, fornendo loro una formazione qualificata d'aiuto cuoco. Gli offriamo questo corso di alta cucina per dargli la possibilità di non dipendere mai più da nessuno, perché questo, sai, essere indipendente sugli altri porta anche a subire violenze da persone che forse sono economicamente più forti di te.